Nuova luce sulla città di Pescara. Nel giro di un biennio sarà interamente ammodernata la rete elettrica ed illuminazione pubblica attraverso l'installazione di lampadini a led a luce bianca da parte della società Enel Sole, che si è giudicata l'appalto decennale per la gestione degli impianti di Pescara. L'importo dei lavori è di circa 10 milioni di euro e verranno sostituiti 11.600 punti luce e quasi 6.000 pali. I lavori divisi in otto lotti che partiranno dal lungomare Nord. Prevedono anche altri ammodernamenti come l'estensione del telecontrollo per la gestione dei guasti e la sostituzione delle linee elettriche vetuste, oltre che dei corpi luminosi all'interno delle scuole di competenza comunale. Secondo Pescara Energia, la società in house del comune che gestisce l'illuminazione pubblica, si otterrà un risparmio energetico di circa il 50%, oltre ad un miglioramento della illuminazione delle vie cittadine. Finalmente si è concluso un contratto, dopo vicende giudiziarie, perché il contratto l'aggiudicazione è impugnata, dal 2014 si è concluso adesso. Ripartiamo con un progetto che è ambizioso perché prevede investimenti per 15 milioni di euro. 10.244.000 euro saranno messi un po' dalla società che si è giudicata la gara e 5.350.000 euro li metterà a Pescara Energia. Interverremo mettendo la luce bianca, in pratica i led. Il led dà una notevole riduzione di assorbimento, quindi risparmi energetici consistenti. Interverremo un po' su tutta la rete, ma non solo, toglieremo i globi che non sono più a norma. In pratica è un restyling dell'intera illuminazione pubblica della città di Pescara.